Cecilia, Cecilia, vieni. Grazie. 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 Buonasera a tutti. Se siete d'accordo, io direi di mantenere una precisione svizzera e cominciare. Grazie. Grazie. Come dicevo poco fa nell'incontro di saluto, ringrazio molto Paolo Merluni per aver accettato il nostro invito, perché, come sappiamo, è piuttosto riservato, schivo, nell'organizzare incontri, diciamo, di comunicazione incentrati sullo stile, sulla persona. Quindi è una presenza preziosa, un'occasione importante per i nostri allievi, che rappresentano quel settore che abbiamo difeso quest'anno integralmente, perché questa è la prolusione dell'anno accademico 18-19, per la nostra compagine fatta da imprenditori, da ricercatori impegnati a livello accademico scientifico, alla pubblica amministrazione che accompagna lo sviluppo economico. Dicevamo poco fa che i Merluni in Stavo sono di casa, con l'ingegner Francesco, con Gian Mario Spacca, che è stato, anche durante il periodo di impegno politico, persistente nella responsabilità di Economia Marche, che ha raccolto studi e ricerche che riguardano non soltanto lo sviluppo economico delle marche, ma, diciamo, delle traiettorie di sviluppo dell'impresa. Vittorio, che ha qui avuto anche gli ultimi incontri, diciamo, attivi di indirizzo e di politica industriale, Sono stati anni che noi abbiamo continuato questa esperienza, in cui l'Istau ha cercato di rispondere a una domanda formativa, imprenditoriale, sempre più esigente e innovativa. Venendo alla presentazione di Paolo Merloni, lo dico per i nostri allievi, non per il resto dell'Assemblea, qualcosa ci siamo già detti, vale la pena di dire che è Chief Executive Chairman del gruppo dalle 2010, quando l'ingegner Francesco ha ceduto le redini, ha ricoperto il ruolo di Presidente onorario, diciamo consigliere speciale della società. È membro del board dell'Associazione Europea dell'Industria del Riscaldamento, è membro italiano della rete Endeavor, che si occupa delle linee di sviluppo economico, si occupa di imprenditori ad alto potenziale da accompagnare nello sviluppo globale. È un bocconiano, ha iniziato a lavorare nel finanziario con McKinsey, a Madrid, e poi a Milano, prima di rientrare con vari incarichi in Ariston, con incarichi di responsabilità che poi hanno portato al 2010-2011, l'anno in cui la crisi globale rinsacca e aggrava gli effetti. La prima cosa che vorrei dire è che Ariston termo in controtendenza non solo si consolida, ma si sviluppa in questi anni con nuove acquisizioni ed investimenti strategici. Già gli anni precedenti erano stati caratterizzati da un'accentuata internazionalizzazione, con le acquisizioni nel 2002, se non ricordo male, di Chaffutò e di Elco, la prima importante per i paesi francofoni e la seconda per l'Europa centrale e l'Europa del Nord. Questa strategia di espansione funzionale a processi e nuovi prodotti si è allargata e accentuata con il caso di NTI canadese, il contratto di acquisizione di HTP, l'azienda statunitense leader delle soluzioni innovative ad alta efficienza per il riscaldamento dell'acqua, con sede a Bedford in Massachusetts, che ha garantito un ingresso diretto nel mercato americano. Poi ancora Israele con Atmor, più, si dice in azienda, in Ariston termo, più che con una motivazione di mercato soprattutto tecnologica. E poi Calorex in Messico con la produzione e anche il ponte Mercosur strategico a sud e a nord. Ecco, agli investimenti di prodotto si sono accompagnati quelli di processo, la World Class Manufacturing, che vede fortunatamente premiate altre imprese nelle marche come quella di Adolfo Guzzini. Ha riguardato l'innovazione, il sistema, il collegamento di tutti i sistemi in un'unica centrale capace appunto di controllare qualità e direzione ed organizzazione. Se mi consentite, tra gli investimenti effettuati da Ariston Terme, quello che più ci ha confortati e devo dire ci ha un po' anche riscaldato il cuore, è stato quello di Albacina, che è lo stabilimento del capostipite dell'impresa, che negli anni precedenti avevamo sentito destinato alla, se non mi ricordo male, non me ne voglia, all'imprenditore pugliese che l'aveva proposto, a prefabbricati per i cimiteri. C'è un processo di reindustrializzazione che invece lo riconsegna a una funzione cruciale. Ecco, con il progetto Ariston Terme verrà realizzato un centro di competenze per la progettazione e la produzione di tecnologie rinnovabili avanzate per il settore termico. Questo centro nuovo di Albacina, importante non soltanto per l'occupazione, ma per la funzione, accompagnato al centro di Agrate Brianza, un centro di ricerche di competenza globale sulle tecnologie avanzate, mi sembra possa rappresentare il cervello pulsante del gruppo dell'azienda proiettata sul futuro. Ecco, non voglio prendere altro tempo, vorrei dire semplicemente che con oltre un miliardo e mezzo di fatturato nel 2017, 150 paesi, 6.900 dipendenti, 59 società operative, 8 uffici di rappresentanza, 36 paesi e 22 siti produttivi in 13 paesi, 10% dei ricavi in Italia e il resto in giro per il mondo, è un record importantissimo, prima azienda nelle Marche, tra le prime in Italia e non ho visto ancora i dati ufficiali, ho visto delle prime note sul 2018, un aumento del 3-4% rispetto al 2017 che ci fa assolutamente sperare bene. Bene, quindi il tema della lezione, della prolusione, radici locali, proiezione globale, organizzazione manageriale, mi pare che sia quella indicata da Paolo Merloni, una ricetta dell'impegno, della serietà, dell'apertura mondiale, consapevole che le persone sono fondamentali e le radici sono vitali, se ricevono gli alimenti nutrienti più salutari. Concludo con una sua citazione, che è quella in cui in un'intervista dice c'è ancora chi si chiede, che chiede incentivi, sussidi, prestazioni varie, ecco, in ambito politico, nella pubblica amministrazione e nell'impresa occorrono meno scorciatoie e più serietà, che mi pare un motto adottabile da tutti. Allora, la parola adesso a Paolo Merloni. Buonasera, buonasera a tutti. Innanzitutto, grazie a tutti voi che avete preso il vostro tempo per venire ad ascoltare qualcosa. Io spero solo che questa mia presentazione sia anche l'occasione per avere un po' di curiosità. se volete vorrei che fosse anche un po' diciamo non solo monodirezionale, ma adesso magari vi racconto poi. A parte che poi ringrazio il Presidente, oltre che per una presentazione bellissima, perché comunque mi allevia il compito, in quanto diverse cose le ha già dette lui, ma va benissimo, anzi meglio, così diciamo lasciamo più spazio alle domande. No, ma a parte scherzi, grazie a tutti, grazie a tutti quanti, a partire da Adolfo, che per primo mi ha voluto invitare, al Presidente, a Pietro, a tutti voi. Io mi è stato chiesto di riflettere sull'azienda, sulle sfide che abbiamo davanti. Allora per far questo io ho assemblato un po' di alcune slide e vorrei però partire con un video, e non è il solito video istituzionale che magari in internet potete vedere, ma è, a proposito di sfide, un video un pochino lungo, 4-5 minuti, però un video, penso, interessante perché dà molto più delle mie parole anche un po' il senso, il concetto della sfida della nostra azienda e anche della visione e dell'approccio che abbiamo. Quindi adesso devo capire, sì, vediamo un po' se funziona, vediamo se parte e se si sente. Infatti non parte. Allora, scusate, prima partiva, vediamo se adesso ritorniamo indietro. Prima era partito, giusto? Allora, scusate, giusto? È stata una bella sfida con me stesso, una bella avventura perché non è cosa di tutti i giorni installare una caldaia al circolo polare artico sull'isodismo. Ti rendi conto che la forza della natura è ben superiore all'uomo. Se madre natura vuole che tu non ti muovi di lì, non ti muovi. e poi ci rendi conto che la forza della natura è benedizione. Non ti muovi di lì, non ti muovi di lì, non ti muovi. Non ti muovi di lì, non ti muovi di lì, non ti muovi di lì. Grazie a tutti. 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 Grazie. Grazie a tutti. 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 e a tutti. Grazie 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 a tutti. a tutti. a tutti. Grazie 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 a tutti.